Ued, Angela Nasti bullizzata dalla sorella, la rivelazione spiazzante Lex tronista di Uomini e Donne Angela Nasti sta creando un bel po di scalpore sul web negli ultimi tempi Dopo aver lasciato Alessio Campoli, a pochissimi giorni dalla scelta, la ragazza è finita in una bufera mediatica senza precedenti Nelle ultime ore è trapelata anche una notizia imbarazzante, secondo la quale la bella napoletana possa essere fidanzata con un ragazzo di nome Guido da un bel po di tempo La Nasti non si è ancora espressa sulla questione Ad ogni modo, ciò che sta spiazzando in web in questo momento è un'altra notizia Andando nelle IG stories della sorella Chiara Nasti, sono presenti dei video che comproverebbero il fatto che Angela sia stata bullizzata da lei I fan sono rimasti senza parole, specie per la naturalezza con la quale l'influencer ha raccontato la cosa Ecco cosa è emerso L'inaspettata confessione della sorella di Angela Nasti Angela e Chiara, negli ultimi giorni, si sono rese protagoniste di alcuni piccoli screzzi sul web Tutto è nato nel momento in cui la sorella minore ha detto di avere un brand di costumi insieme a sua sorella maggiore Ebbene, dopo aver effettuato tale confessione, Chiara è intervenuta sulla questione ribadendo che il brand fesse solo ed unicamente suo Da quel momento in poi, le due ragazze si sono lanciate velenose frecciatine che hanno molto divertito il pubblico da casa Ad ogni modo, ieri pomeriggio Chiara Nasti si è dilettata nel rispondere ad alcune domande dei fan La ragazza ha, tuttavia, toccato un tasto molto delicato Nel parlare del rapporto con la sorella ha rivelato che Angela è stata bullizzata da lei Scopriamo nel dettaglio che cosa è emerso Bullizzata da piccola, il web senza parole Chiara Nasti e Angela Nasti si passano pochissimi anni di differenza Nel momento in cui nacque la seconda, infatti, linfluencer si sentì messe in secondo piano, per questo motivo incominciò a farle dei dispetti davvero molto cattivi Chiara, quando era piccola, era davvero una peste Lei stessa ha raccontato di essere davvero insopportabile e di aver fatto scappare tutte le babysitter Ad ogni modo, la cosa che ha lasciato maggiormente senza parole, è stato il fatto che Angela sia stata bullizzata dalla sorella Quest'ultima, infatti, ha rivelato di averla messa con la testa nel WC nel tentativo di farle uno shampoo Inoltre, tagliava anche tutti i capelli alle sue bambole e le faceva molti altri dispetti Insomma, un comportamento davvero assurdo che ha lasciato senza parole i fan Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.